Questo è vero, questo perché l'asta 40 è passato il turbo effettivamente sarebbe stato decisivo e siamo andati a dare un po' conoscenze che tutti noi conosciamo certo, questo dispiace, quindi accorteremo comunque che il calcio inglese veniva male ha sempre giunto la scuola che vanno avanti, che arrivano quasi sempre fino in fondo